Cittadinanza e Costituzione per persone immigrate perché l'integrazione parta prima di tutto dalla formazione e dall'apprendimento. Il corso è organizzato dall'Unione Giuristi Cattolici Beato Contardo Ferrini e dall'Associazione Consumatori Disabili con il sostegno dell'Assessorato ai Servizi Sociali Abitativi del Comune di Pavia e l'accreditamento della Prefettura ed è stato presentato nell'ufficio dell'Assessore ai Servizi Sociali Sandro Assanelli a Palazzo Saglio. Siamo qui con l'Assessore ai Servizi Sociali Sandro Assanelli. Questa mattina è stata presentata la prima edizione del corso Cittadinanza e Costituzione per persone immigrate. In cosa consiste e di cosa si tratta? Si tratta di informare e di dare delle nozioni ai nostri immigrati sia sulla storia dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Si tratta di parlare della nostra Costituzione, si tratta di parlare di problemi relativi al matrimonio, alle relazioni che c'è tra Stato e Chiesa. Si tratta di informare su quelli che sono i diritti del lavoratore e i doveri, sul fisco e il diritto alla salute e i doveri che devono essere esercitati sia dallo Stato che dall'utente che dallo straniero. Cioè è un'informazione che noi diamo sulla storia di un colore d'Italia, sul nostro modo di comportarsi, sul nostro modo di agire. È un modo di confrontare anche le diverse culture. Le persone che sono qui tante volte non conoscono bene le nostre leggi quindi magari incorrono in reati dove è così in modo inconsapevole. Ecco noi vogliamo informarli bene su questo ma soprattutto questo qui è un corso che fa in modo che le persone si conoscono, gli italiani conoscono gli stranieri, gli stranieri conoscono gli italiani e quindi tante volte proprio dalla conoscenza, dalla frequentazione scompaiono anche quelle paure e quelle piccole o grandi incomprensioni che sono tipiche delle persone che non si conoscono. Ecco noi vogliamo farli conoscere, farci conoscere come italiani, far conoscere la loro cultura, anche i loro desideri, anche la loro apprensione, anche le loro paure. Ecco questo è un modo che secondo me è molto importante. Come un altro modo importante è quello di integrarli insieme nel lavoro e noi per questo abbiamo fatto una sartoria che è la sartoria francesca dove le persone, prodotto di sesso femminile, si trovano con quello a lavorare insieme e quindi a guadagnare qualche cosetta, a imparare un mestiere e soprattutto a conoscersi e a vincere anche qui alcuni momenti magari di tensione, di paure che ci possono essere per persone che dico di... che provengono da paesi con usanze e costumi diversi. Cittadinanza e Costituzione per persone immigrate. Quanto è importante un'iniziativa del genere nell'ottica di un efficace processo di integrazione? L'iniziativa è stata voluta dal Ministero dell'Interno e credo vada accolta favorevolmente non come un appesantimento burocratico ma come un'occasione di conoscenza e direi anche di conoscenza reciproca. Per gli immigrati è l'occasione di conoscere quali sono i principi etici e sociali e se vogliamo anche giuridici e costituzionali sui quali si basa una buona convivenza nel nostro paese, cioè una convivenza fatta di relazioni vere, autentiche e pacifiche tra le persone. Devo dire che anche per noi che organizziamo il corso l'iniziativa si sta rivelando come un'occasione per conoscere le loro storie, le loro esperienze, i paesi di loro provenienza e dunque costituisce anche per noi un arricchimento in questo senso, un'occasione anche per manifestare la gratitudine che pure noi dobbiamo a queste persone che vengono da lontano magari con tanti sacrifici e che lavorando nel nostro paese danno certamente una mano al nostro paese ma portano anche il meglio delle loro culture.